Ragazzi benvenuti su Castiub Drums, oggi come potete vedere ho una batteria che non è al completo perché oggi voglio parlare di piatti e voglio andare pian pianino a inserire sempre più piatti possibile in questa batteria quindi appunto ho tolto tutto, ho lasciato solo i tom, ho lasciato solo questo clanch del charleston e adesso pian pianino vado a completare la mia batteria cioè andrò a mettere qualche piatto, poi andrò a metterne uno in più, uno in più, uno in più, uno in più fino a farvi capire quanti piatti si possono mettere nella batteria ma soprattutto voglio farvi vedere un po' quali sono i set possibili di piatti oggi quindi ho chiesto a... mazza ragazzi questo è pesantissimo strumentimusicali.net che ringrazio come sempre per mandarmi tutto quello che voglio ho chiesto di mandarmi un bel po' di piatti, adesso vedrete anche di quali piatti vi parlerò e ho chiesto anche di mandare, questo è il taglierino, lo metto qui di mandarmi quest'altra scatola che dopo capirete che cos'è ma non vi spiego subito perché questo è un esperimento, questo invece è proprio una cosa che voglio farvi vedere quindi andiamo ad aprire la scatola e vi vado a prendere i primi due piatti che monterò non che manterò ma che monterò allora apriamo la scatola sì 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 ecco qua allora primo piatto che vado a farvi vedere è sbagliato di nuovo tutto come al solito questo a custom di Zildian allora ecco qua ho scelto per questo video di farvi vedere quasi tutti a custom quasi tutti perché ce n'è uno in realtà che non è a custom ma poi vi spiego il perché l'ho scelto ho deciso di prendere questo modello di piatto perché secondo me è un piatto molto figo e perfetto per fare rock, pop ha un suono bello tagliente e quindi ho detto la custom secondo me è perfetto quindi utilizzerò questo ride e poi per iniziare utilizzerò ma dov'è? mamma mia quanti piatti ci sono! questo che bello! ve lo faccio vedere dopo e pensavate matta sono tantissimi eccolo qua! charleston! charleston ovviamente a custom anche in questo caso e ho deciso di prendere il master sound di Zildian cioè il master sound è un piatto che praticamente il piatto sotto il piatto bottom è tutto zigrinato in questo modo ondulato questo permette all'aria che c'è tra i due piatti di uscire più facilmente quindi avremo un suono un pochettino meno secco a me è un po' più pastoso come suono piace molto oggi non ho mandato la sigla non ho fatto niente sono un disastro come al solito ma abbiate pazienza ragazzi fa niente oggi la sigla non c'è ma io questo lo metto qua per prima cosa e però una cosa molto importante che io voglio dire è di iscrivervi al canale mi raccomando ragazzi se vi piacciono queste tipologie di video se mi piacciono i miei video in generale supportatemi cliccando iscriviti sul canale perché è una cosa che fate in un secondo ed è una cosa importantissimissimissimissima per me quindi se vi va ovviamente se vi piacciono i miei video fatelo io non mando la sigla ho detto quindi vado direttamente a montare i miei piatti partiamo con un set minimal cioè un set charleston e ride quindi monto e arrivo eccoci qua i miei primi due piatti montati questo è il primo set con due piatti primo set ma con due piatti allora volendo possiamo anche già suonare con un charleston e un ride l'importante secondo me è che il ride per prima cosa abbia un bel suono di ride ovviamente e poi sia possibile anche crasharlo il ride quindi suonarlo come crash eh dovevo mettere la cordiera come potete sentire questo ride va bene come ride e come crash quindi è ottimo perché appunto il piatto che manca diciamo in questo set minimale è proprio il crash quindi il ride deve poter fare sia da uno sia dall'altro questo è un ride un po' più piccolo diciamo tra virgolette del solito i ride di solito siamo abituati a vederli da 22 pollici questo è da 21 pollici quindi un pochettino più acuto e un po' più particolare charleston bellissimo 14 pollici super pastoso molto molto bello è abbastanza acuto comunque come suono ma è bello pastoso e devo dire che il master sound ha un po' questa caratteristica di pastosità che a me piace tantissimo come sapete pastoso per me è il piatto perfetto lo dico sempre andiamo avanti voglio farvi vedere il set con tre piatti perché adesso andiamo a raggiungerne uno ve lo prendo eccolo 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 qua allora questo è un crash se allora sempre ovviamente a custom da 16 pollici ho voluto provare a prendere un 16 pollici che non uso da un bel po' di tempo io solitamente ho crash da 18 sempre come minimo 17 18 però in realtà il 16 pollici è ottimo perché è un crash che comunque non suona troppo 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 forte 18 tante volte è troppo perché se vai ad esempio in un locale suoni troppo forte invece con il 16 abbiamo un po' un compromesso di potenza e bellezza del suono sarà un pochettino più acuto mi manca un pezzo vado a cercarlo e quindi in questo modo abbiamo diciamo il set completo di batteria perché abbiamo un charleston un crash e un ride sono andato un po' contro tempo un po' cose vabbè ma mi piace ogni tanto lasciare robe anche se non sono proprio pum pa pum pa perfette quindi questo è un crash molto bello in realtà e me l'aspettavo un pochettino più acuto ma è abbastanza non dico basso come intonazione ma comunque bello presente bello pomposo ma ha molto attacco e un sustain abbastanza breve quindi super esplosivo ma poi trattiene un pochettino quindi è perfetto soprattutto appunto se dovete andare in posti non troppo troppo grandi avete un bel suono ma che non rompe troppo troppo le scatole volendo però noi possiamo fare un'altra cosa perché questo è il set diciamo quello di prima è il set minimal questo è il set normale con questo potete fare praticamente tutto ma per comodità se ne avete bisogno potete prendere un altro crash e io l'ho preso ovviamente ho preso un altro a custom crash che è questo qua e praticamente questo è un crash da 18 che io voglio andare a mettere qui cioè come secondo crash si può mettere qui si può mettere qui lo potete mettere un pochettino dove volete ma io non ho più aste quindi ho chiesto strumentimusicali.net in questo pacco qua di mandarmi anche delle aste e ho deciso di prendere le aste tra le più economiche che ci sono sul sito perché volevo provarle e quindi ho preso proprio queste aste qui che sono delle aste tamburo super economiche costano tipo 40 euro l'una una cosa del genere sono aste a giraffa quindi comunque già di un certo tipo e in realtà ho detto voglio provare a vedere delle aste super economiche cosa come come si comportano e queste in realtà sembrano abbastanza solide adesso io questa vado a metterla qua vado ad abbassarla un pochettino perché è troppo alta dove è una chiavetta ecco qua messa tutto a posto e adesso vado a mettere il mio crash allora vediamo un attimo come si comporta sia il crash sia l'asta magari tiriamola un pochettino meno vediamo un po' beh c'è un altro abbastanza secco e devo dire che l'asta non si è mossa se devo trovare un qualcosa che più o meno, i gommini, i gommini sopra e sotto a quest'asta vanno bene, sono un po' piccolini quindi io li cambierei, però l'asta per il costo che ha, secondo me va molto 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 bene. Quindi questo crash qua, che io ho messo anche un po' storto perché a me piace così e mi è un po' più comodo, serve in pratica come crash aggiuntivo per avere ovviamente un suono diverso, ma tanto 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 per comodità, non dovete per forza avere un suono diverso, se li volete uguali potete anche prenderli uguali, ma è una questione di comodità, avere due crash mi permette di utilizzare il primo crash magari nel momento in cui sono dalla parte sinistra della batteria, il secondo crash ad esempio faccio un fill che finisce sul timpano e posso andare sul crash direttamente in modo super semplice. Vedete, quando sono dalla parte sinistra della batteria vado su questo crash, quando sono dalla parte destra vado su questo crash. Quindi questo è il set un pochettino sopra il set normale, ma è un set ancora abbastanza standard, con due crash e charleston e ride. Adesso andiamo ad aggiungere un pezzo e questa volta prendo un'altra asta e vado ad aggiungere un piattino molto piccolo. Eccolo qui! Uno splash! Ragazzi questo è una tipologia di piatto che ovviamente si chiama splash perché fa un suono simile a splash ed è un piatto molto piccolo che come potete sentire. Adesso ve lo faccio sentire. Fa un suono molto acuto, questo è quasi tra splash e bell. Il bell è quello che fa ding, lo splash è quello che fa splash, ovviamente. Vado a metterlo posizionato qui perché a me gli splash piacciono posizionati o qui o in un altro posto, ma ve lo faccio vedere dopo l'altro posto perché, spoiler, ho preso un altro splash. Vado a mettergli quest'asta che forse è un po' troppo, diciamo, per uno splash. Volendo potreste anche andare a prendere un'asta che si attacca a un'altra asta e arriva su, diciamo, qui attaccata al charleston, ma io per non saperne leggere né scrivere e per vedere un po' come funziona il tutto decido di prendere un'altra asta. Vado, monto e torno. Eccolo qui, posizionato il mio splash, che adesso ho tirato veramente tanto, quindi suona molto... Molto carino, devo dire, comunque. Però volendo lo posso anche mollare un pochettino, farlo muovere un po' di più... E spero si senta anche dai microfoni, ma il suono è un po' meno secco. Perché ho deciso di utilizzare uno splash, subito dopo aver composto il mio kit con due crash, Ryde e Charleston. Perché solitamente, quando abbiamo questo kit, vogliamo poi passare a un piatto in più. Però tante volte, comunque, il budget che abbiamo non è altissimo. Quindi questo è un modo per avere un piattino in più, un suono in più, senza dover spendere un patrimonio. Quindi splash da sei pollici, ovviamente a custom, che possiamo utilizzare in qualsiasi modo. Molto carino, molto molto carino questo splash. E soprattutto abbiamo un suono diverso completamente da tutti gli altri. Vogliamo parlare di suono diverso, quindi? Sì, parliamo di suono diverso. Questo è un suono ancora completamente diverso rispetto a tutti gli altri e sto parlando del China. Se avessi voce parlerei, non ho voce. Ok, molto meglio. China, che non è a custom questa volta. Ho deciso di prendere un China Oriental perché a me piace molto questa tipologia di China. Io ne ho uno uguale identico, sempre da 18 pollici e dà un suono che è veramente fantastico. Questo China andrò a posizionarlo in un posto, poi dopo lo sposterò, ma per adesso vado a posizionà... a posizionarlo sopra il mio crash, quindi in questa posizione qua. Ed eccolo montato. Come vedete, molti di voi diranno, eh, ma il China è montato al contrario. È vero, avete ragione, perché io lo monto al contrario. Mi piace di più picchiando qui, ho un suono un pochettino più secco e quindi mi piace di più montarlo così. E montato qua sopra in realtà è molto 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 comodo. Sembra lontano, ma alzandolo e portandolo un po' verso di me riesco a suonare Ride, Crash e China tranquillamente. Questo è un suono pazzesco, cioè è foltissimo il suono del China. Non utilizzatelo, non pensate di prendere un China da 18 soprattutto, da utilizzare nei localini, come vi dicevo, del Crash da 16 eccetera, scordatevelo completamente perché il China ha un suono fortissimo. Sentite un Crash da 16 e un China da 18. Suono potentissimo, quindi volendo potete prendere un China un po' più piccolo, magari da 16, da 14, ne esistono fino a chainini da tipo 8-10 pollici, potete prenderlo assolutamente e utilizzarlo come volete. Ma mi raccomando, la cosa importante è utilizzatelo con parsimonia perché il China non è un piatto d'accompagnamento. volendo lo possiamo utilizzare anche con la punta. Però in generale è un piatto da casino, scusate, l'ho detto, casino, perché fa casino, raga, fa casino. Il China è un piatto bellissimo, secondo me è molto 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 bello come effetto, però non è sempre sempre utilizzabile. Adesso vado a prendervi una, vi lascio la chicca per la fine, fine fine, ma vado a prendervi un altro piattello, un altro piattino che, eccolo qui, è già qui, ed è un altro splash, questa volta splash da 10 pollici. Gli splash arrivano di solito massimo a 12 pollici. Qui andiamo veramente a aumentare il numero di piatti esponenzialmente, perché siamo passati da due piatti e adesso ne abbiamo già sei, tre, sette con questo, quindi abbiamo un bel po' di piatti. Vado a prendere un'altra asta, ce l'ho un'altra asta, sì, ne ho una ancora qui dentro, ma ne ho una... Questo che cosa c'era qua? L'ho montata! Avete visto dove l'ho montata? L'ho montata qui! Sì, perché un posto dove molto spesso si mette lo splash è tra un tom e l'altro, in pratica, sopra un tom e l'altro. Io adesso, avendo questi due microfoni messi in questo modo, ho deciso, non voglio cambiarli per una questione di suono, ma ho deciso di posizionare lo splash un pochettino più in alto. Volendo, se avete magari i microfoni dei tom un pochettino spostati, volendo potrete anche andarlo a posizionare un pochettino più in basso. Quindi io vado a mettere il mio splash da 10 pollici, guardate che bello qua, che comodo, soprattutto perché è proprio in mezzo alla batteria, e posso andare a suonarlo sia un pochettino più come un crash, questo qua, perché non è da 6 pollici come l'altro, ma è da 10, quindi ha un suono un po' più... già da crash, diciamo, oppure posso andare a intervallare, utilizzare quindi tutti e due gli splash. E' divertentissimo, raga, quando avete tanti piatti così diventa veramente super divertente, una cavolatina che vi faccio vedere, che però io utilizzo moltissimo quando vado a usare lo splash, soprattutto da 10, allora svitati, si vede che questa asta non è nuova come le altre della tamburo che ho preso. Svitate il vostro crash, posizionate lo splash al contrario, lasciando sempre qui in mezzo un feltrino, mettetegli un altro feltrino sopra, e poi andate a chiudere tutto. In questo modo voi avrete due piatti con un'asta sola. Allora, ho questa vite che mi rompe le scatole, quindi me la metto in tasca e poi ho di suono, perché se no sbaglio. Ovviamente, mettendoli in questo modo, perché già so che nei commenti mi direte eh ma i piatti in questo modo si rompono, ovviamente non è il modo giusto di suonarli e di posizionarli i piatti, quindi un pochettino più rischio di rottura in confronto a posizionarli in questo modo qua, c'è. Io l'ho fatto per anni con il mio a custom da 10 pollici, praticamente era proprio questo, e non mi è mai successo niente. Quindi secondo me dipende sempre un po' anche da come li suonate i piatti, eccetera eccetera eccetera. Andiamo a mettere ancora questa vite qui. E adesso vado a prendervi la chicca finale. Per prima cosa prendo l'asta, l'ultima asta. Poi lasciando l'asta qua e mettendo questo qua, vado a spostare il mio china e lo posiziono in questo buco, diciamo, tra un piatto e l'altro che mi è rimasto. Vediamo un po' se va bene, vediamo un po' se va bene. Sì, ci può stare. Poi sposto magari il mio splashino un po' più in qua e ho un crash un po'... Perché questa è qui? Ho un china un pochettino più come posizionerà con l'aiuta, perché con l'aiuta di solito ha il china di qua. Lui tante volte ce l'ha addirittura più in qua, ma non mi avreste più visto la faccia se l'avessi messo qua. Quindi qui va bene, tra splash e crash. Mentre qui vado a mettere un'altra asta che praticamente è al posto del china e vado a mettere la chicca, ragazzi. La chicca è questa qua. La chicca è il piatto effetto, che non mi ricordo, l'EFX, ecco, di Zildian. Sempre a custom, ovviamente. Qui sto spostando le luci, sto facendo casini pazzeschi, vabbè. Eccolo qua, questo è il piatto bucato di Zildian. Che è sempre a custom, ma in pratica questo piatto è un insieme tra crash e china. Adesso ve lo metto su e ve lo faccio sentire. Eccolo qua. Posizionato il taglierino, non mi serve più. Lasciamolo un po' più morbido. Molto bello questo. Fermiamo tutti i piatti, di solito ne devo fermare uno solo, adesso ne devo fermare 63. Questo è appunto un insieme tra crash e china, ma che suona un pochettino più piano del china, sentite. Poi dipende, ce ne sono di tanti tipi, questo forse è un po' più verso il crash. Ma è molto carino e soprattutto molto caratteristico, molto caratteristico, perché ha questi buchi che appunto sono proprio caratteristici delle FX. Quindi io ho finito. Guardate quanti piatti ho. Sono partito da un Charleston e un Ride, che in pratica sono un po' la base. Sono i piatti di accompagnamento. Ho aggiunto il crash, perché comunque il crash dopo Charleston e Ride sono importantissimi. Ho aggiunto un altro crash, per comodità principalmente, per avere due suoni, uno più grave e uno più acuto, ma appunto per potermi gestire meglio con i crash, non dover fare delle cose strane per riuscire ad andare a prendere il crash, eccetera eccetera. Ho aggiunto un piatto splash, che secondo me è il primo piatto che potreste aggiungere alla vostra batteria, perché è piccolino, non tiene troppo spazio, non ha bisogno di un'asta super potente e soprattutto costa meno rispetto a tutti gli altri piatti. Poi sono andato ad aggiungere, non me lo ricordo, il china. Il china che potete posizionarlo a sinistra o a destra, come volete, come siete comodi e dove avete spazio, soprattutto in base a come montate la batteria e questo è un effetto pazzesco. Ricordatevi che potete montarlo normale oppure al contrario, come ho fatto io. Poi sono andato ad aggiungere un altro splash in mezzo ai miei due tom, in modo tale da poterlo prendere e poterlo anche utilizzare un po' come crash, diciamo, in qualsiasi punto io sia della batteria, perché comunque è in mezzo alla batteria, quindi è molto comodo. Poi sono andato ad aggiungere, infine, l'EFX per dare ancora un suono diverso rispetto a tutti gli altri suoni al mio set. Quindi, ovviamente, vi chiedo di dirmi cosa ne pensate di questo video. Se vi è piaciuto un video un po' diverso dal solito, non avevo mai fatto un video con così tanti piatti dove vado ad aggiungere pian pianino cose. Sarebbe interessante forse farlo anche con una batteria, magari partire dal cassarullo, poi aggiungere un timpano, aggiungere un tom e arrivare magari ad avere tanti tanti tom e timpani e magari due casse, non lo so, la butto lì a caso, della batteria. Quindi, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate. Devo ammettere anche che queste aste tamburo pagate veramente poco rispetto a delle aste magari più blasonate. Funzionano molto bene, sono piccole, stanno bene anche con piatti abbastanza grandi. Non li fanno muovere, si muovono un pochettino, ma niente di che, quindi non rischiate che i piatti cadano. Nessun tipo di piatto, le utilizzerei anche tranquillamente per un ride. Io direi che, ragazzi, la devo finire qua. Sono preso benissimo per questo video e vorrei continuare a parlarvi. Oggi ho parlato anche molto veloce rispetto al solito, forse, perché volevo spiegarvi tante cose. Perché questa, secondo me, è una prova molto bella che ogni batterista deve cercare, pian pianino, col tempo, di farlo. Io ho la fortuna di poter collaborare con strumentimusicali.net, eccolo qua. Adesso vi faccio vedere anche questo pacco, prima vi ho fatto vedere l'altro, che mi permette appunto di dire, boh, voglio fare questa prova, ordino e faccio. Quindi voglio ringraziare tantissimo veramente strumentimusicali.net per queste possibilità che mi dà, veramente una cosa bellissima. Guardate che batteria, ragazzi. Io vorrei rimanere con la batteria così e suonare tutto il giorno, tutti i giorni, per il resto della mia vita, perché è una figata. È veramente super, super divertente. Se avete la possibilità, mi raccomando, sperimentate qualcosa in questo modo, perché ve lo consiglio. È veramente molto, molto divertente e soprattutto è utile perché vi permette di scoprire qualcosa di nuovo nel vostro drumming. Quando andate a suonare un piatto diverso, dal solito con un suono diverso, anche le vostre idee cambieranno proprio le idee di quello che fate sul set. Quindi, mi raccomando, provateci. Basta, ragà, la smetto, veramente. Vorrei andare avanti per ore, vorrei suonare ancora un pochettino, ma no, perché sennò il video dura sei ore e mezzo, il timer mi dice che siamo già a un bel po'. Quindi, basta così. Direi che la finiamo. Iscrivetevi al canale se vi va, ragazzi, mi raccomando. Commentate e fatemi sapere tutto quello che volete vedere sul canale, tutto quanto. Ovviamente, ultima cosa che vi dico, questa cosa che ho fatto io, si può fare con gli a custom come ho fatto io, ma ovviamente anche con tutte le altre tipologie di piatto. Quindi, noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Grazie, ciao.